Hello, hello, benitose ed eccomi di nuovo qua e nel video di oggi vi ho portato tutti i miei prodotti, tips e consigli per fare questa piega mossa Per chi non mi conosce, sono Brigida Ferrocini, benvenuta nel mio canale Per chi non lo sa, io sono riccia, ricissima, tipo trecci E oggi voglio mostrarvi tutti i prodotti, accessori e consigli, tips che utilizzo per fare la mia piega liscia mossa in un tempo più breve e con questo risultato così super liscio, con i capelli super allineati E non solo, oggi ho anche tagliato un po' la mia frangetta, che la vedrete solo alla fine del video, l'ho tagliato anche un po' la mia frange e vi mostrato poi tutto questo processo Se vi piace questa tipologia di video, già lascia subito il mio like Il mio trattamento è iniziato già dello shampoo, che ho utilizzato l'impacco pre-shampoo rigenerante di Divina Black con estratto di avena e aloe vera Olio di mandor, germi di grano per fare un impacco già super idratante e nutriente Principalmente sulle punte dei capelli, sulle punte e lunghezze, che sono le zone più decolorate e più fragilizzate dei miei capelli E lì già inizia la prima cosa, idratare bene i capelli I capelli ben idratati, allora sì, danno un buon risultato, sia nel riccio ma anche in una piega liscia Ho applicato quindi questo impacco su tutti i capelli, dopodiché l'ho lasciato in posa per 30 minuti e ho fatto lo shampoo E il shampoo è utilizzato un shampoo più lavante, giusto per dare più movimento e più volume a questa piega Lasciare le radici proprio più leggera E durante la doccia ho utilizzato anche questa, che è la maschera nutriente di Divina Black Questa è la maschera all'olio di coco, è senza silicone, parabeni coloranti Ed è super nutritiva, lascia i capelli molto morbidi Ha un tempo di posa di 5 a 10 minuti, l'ho lasciata circa 5 minuti, ho utilizzato proprio nella doccia Dopodiché ho districato ed è incredibile la quantità di capelli che mi cadono quando ho la piega Quindi i capelli che cadono durante la settimana cadono per terra, si perdono, non le vediamo neanche A differenza del rizzo, i capelli che cadono rimangono lì e escono tutto di una volta durante il shampoo Ed è molto più, fa anche un po' impressione a volte Adesso ho già tamponato un po' i capelli con questo asciugamano in microfibra Che trovate già disponibile tra l'altro nel nostro sito ragazza vanitosa shop E volevo tagliare un po' la mia frangia, perché ho visto che ho la frangetta super super lunga E quindi volevo fare un piccolo taglio Con un pettinino divido i miei capelli più o meno in mezzo Cerco di essere il più preciso possibile Prenderò a tre dita a distanza dall'attaccatura dei capelli Dopodiché faccio questa forma di triangolo verso l'angolo del sopracciglio Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte Adesso io voglio una frangia, non ovviamente, non una frangetta corta Pensavate che facevo la frangetta? No, non credo! È possibile! Più o meno toglierò questa quantità di capelli Che mi rimane ancora una frangia un po' lunga Che riesca a dare appunto un po' più di movimento con i capelli lisci Adesso taglio dritto solo per togliere l'eccesso appunto L'eccesso di capelli che appunto non serviranno neanche per il mio taglio E dopodiché vado a sfoltirlo Ariel mi sta guardando da là e io dico già subito Amore non fatti brutte idee Che non farò la frangia come te Non so se è riuscita a vedere bene, sicuramente no Ma questo non è un tutorial, è solo io che mi sto tagliando la frangia E adesso prima di iniziare la piega utilizzo questo Che è un olio termoprotettore per i capelli Una buona quantità, non un po' che goccia Perché ho tanti capelli Però mi concentro più che altro sulle lunghezze E sulle zone decolorate dei miei capelli L'ultima volta che ho fatto la piega con questo è venuta proprio una meraviglia Mi è piaciuto un sacco Adesso io divido i miei capelli in mezzo Non proprio preciso, preciso, preciso Ma più che altro per dare un seguito a questa piega Questa lascio proprio così separato E l'altra parte la districo e inizio a fare la piega liscia È importante che i capelli non siano troppo bagnati Appunto per un... Aia È importante anche che i capelli non siano troppo bagnati Perché se no diventa ancora più lunga Per questo tamponato prima con quell'asciugamano Così mi diventa ancora più facile Allora districo E vado di spazzola lisciante Questa è la spazzola di Dry No Asciuga, modella e dà volume Sui miei capelli funziona molto bene Riesco a fare una piega super liscia e molto velocemente Poi se vuoi avere più informazioni su queste spazzole C'è già qua su Youtube Vi lascio qua nei card il video dedicato che ho fatto Con tutte le informazioni Utilizzo, eccetera, eccetera, eccetera Questa prima ciocca io ci metto sempre di più perché la spazzola si deve ancora riscaldare bene Ma io divido praticamente a metà per questo Prima faccio tutta questa parte e poi tutta questa parte Man mano che faccio la piega Le parti che sono già pronte Le leggo, proprio non troppo stretto E le butto all'indietro così per non darmi fastidio Mentre preparo le altre parti dei capelli Se vedete bene io prima insisto nell'asciugatura vicino alle radici E dopodiché solo alla fine lucido i capelli Quindi insisto girando sulle punte per lucidare anche le punte In questo modo, visto che le punte si asciugano più velocemente Io non li stresso troppo Questa parte alta dei capelli che sono rimasti Io li lascio proprio per la fine E quindi proseguo l'asciugatura ugualmente Adesso dall'altra parte Iniziamo dal basso verso l'alto Con piccole ciocche Ciocche sottili Altrimenti non viene proprio il risultato Tutto bene, bello Per la franja volevo provare in un modo diverso oggi Iniziando dal davanti e poi facendo la parte dietro Perché di solito lo faccio all'incontrario Quindi inizio con questi capelli qua del topo E poi questi della franja Ma penso che facendo così all'incontrario potrebbe essere meglio Siccome ho fatto la piega divisa a metà È molto importante alla fine venire con la spazzola E unire questa parte dietro Adesso io vengo con la piastra Che è per modellare ancora di più questi capelli E dare una forma più bella A lucidarli E la piastra che sto usando è questa qua di Aria Beauty Ha la tecnologia infrarossi Mi riscalda super velocemente Mi dà il risultato che voglio Ed in questo non mi ricordo esattamente se c'è il video Ma se c'è ve lo lascio qua È una cosa che mi aiuta molto ad arrivare al risultato che voglio È questa spazzola che ha da tutte e due le parti dei dentini più sottili Che aiutano appunto a lineare di più i fili E così quando passo la piastra i capelli rimangono proprio super allungati Super lisci Quindi con questo qua come faccio? Vengo con una mano con la spazzola E nell'altra con la piastra Passo tre volte vicino alle radici E poi una volta solo fino alle lunghezze E così mi rimane già il capello completamente liscio Però se vuole dare una forma Dare, fare delle onde o fare dei ricci Adesso è il momento Che sono basicamente dei ricci Però che poi se ne vanno quasi che subito sui miei capelli Questa spazzolina per me è stata la scoperta del secolo Perché prima non ci riuscivo proprio Invece con lei è tutta un'altra cosa I capelli vengono veramente lisci Veramente belli, allungati Le punte principalmente Sulle punte si vede tantissimo la differenza E io ci metto un po' Sì, ci metto un bel po' Però il risultato è come dal parrucchiere Anzi, meglio che alcuni parrucchieri Questo mi permette anche di tirare molto bene i capelli Tipo come questa zona qua Che sono difficili da lisciare A meno i miei sono molto difficili Da farli proprio lisci, lisci, lisci E con questa spazzola Riesco a prenderla proprio dalla radice Adesso vediamo un po' il risultato E voilà, questo è il risultato finale dei capelli La frangia è rimasta così, super discreta Io l'avrei fatta ancora più corta Però siccome uso tanto i capelli anche i ricci Preferisco lasciarla così un po' più lunga Che si adatta meglio poi anche al mio riccio E questo è il risultato finale Questo sarebbe il momento di applicare O un olietto Io applicherò giusto due gocce di questo O un spray, un spray fissante Insomma questo è il momento Le onde sui miei capelli non tengono molto Non ho appena finito di farle Se ne sono già andate, vedete Sono proprio molto morbide Ma io le preferisco anche così Più aperte, più morbide Giusto per dare un po' di movimento sui capelli Se avete altri consigli di prodotti e tips Per fare i capelli lisci mossi Lasciatemi tutti qua sotto nei commenti Che non vedo l'ora di vedere E scoprire anche i prodotti che utilizzate per la piega Se vi è piaciuto questo video Lasciatemi un bel pollice in su qua sotto E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 Ciao